Aspetta, perché è comparsa una piramide sulla mappa di venerdì 13 qui? Cosa è successo? Oddio Lion, io quella la conosco! È la famosissima piramide che preannuncia l'arrivo della civiltà egizia sul Rise of Kingdom! Oh mio Dio! La civiltà egizia, ma è quella con i famigerati comandanti Tutmose III ed Imhotep! Sì Lion, è quella, è legitto, c'ha pure un bonus civiltà molto potente per potenziarsi rapidamentissimo! A me piace perché tutta l'azione si svolge su un'unica enorme mappa! Meravigliosa questa cosa qui! E allora, che cosa state aspettando anche voi? Non dovete fare altro che scaricare subito Rise of Kingdoms subito adesso dal link in descrizione o dal codice QR che c'è sullo schermo e con il codice 22ROCKEGYPT potete avere un bonus su COSO! Eh? Che ridite? No, scaricate subito Rise of Kingdoms! E imbecille, scaricate subito Rise of Kingdoms! Bellissimo! 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 Grazie a tutti.